E' via! E' via! E' via! Spara! Sparalo! Sparagli! Dietro! Dipende! L'abbiamo morto e l'ho preso! Sparagli! Ciao gargiulli smanettoni e benvenuti in un nuovo video Dalla SMT Airsoft Quest'oggi vedremo un semplice allenamento Del team in un urbano molto particolare Nel video vedrete un montaggio Di 3-4 giocate assieme Al nostro fedelissimo HK416 Con Akog Vi auguro una buona visione Al prossimo video! Stay angry! Stay bitter! Long kill! Occhio! Stay giù! Occhio! Stay giù! Occhio! Stay giù! Sono avanzato, ripeto, sono avanzato un po' Sono avanzato, ripeto, sono avanzato un po' primosi Di uccangare Mauro Nonperso Grazie a tutti. 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 Oh, cosa ho fatto? Tu non hai idea di cosa ho fatto?